Capitano Dall'Oio, a San Cataldo eri squalificato, non c'eri però la squadra ha portato una vittoria importantissima al termine di una prestazione di quelle veramente epiche. Sì, a San Cataldo è stata una prestazione importante, tre punti fondamentali perché sapevamo che era una partita difficile, in più avevamo tanta gente fuori, io per squalifica altri miei compagni per influenza e infortuni vari, l'importante comunque è che abbiamo vinto e andiamo avanti. Il Gertus continua a non prendere gol, state costruendo dei piccoli record, 13 gol subiti in 19 giornate, da 5 domeniche in grassia non prende gol, qual è il segreto se ce lo puoi svelare? Non c'è un segreto, c'è il lavoro di un gruppo che lavora durante la settimana seguendo le indicazioni del mister, non è solo merito della difesa che non prendiamo gol ma è merito di tutta la squadra. Domenica arriva la Nocerina, è un big match per l'alta classifica, che partita dobbiamo aspettarci innanzitutto? All'andata la prima dimostrazione di forza del Gertus che impose il pari è la Nocerina a San Francesco. Sappiamo che è una partita importante, la Nocerina ha un organico di valore, sarà una partita difficile come sono tutte le altre, è normale che noi siamo in casa e vogliamo ottenere i tre punti, però sappiamo che già come ho detto prima è una partita importante, ce la metteremo tutta per vincere. Russo, Cavallaro, Alvino, DME, ci sarà da lavorare domenica sicuramente l'attacco della Nocerina è uno dei più forti della categoria? Sì, l'attacco della Nocerina come abbiamo visto all'andata sappiamo che sono dei grandi giocatori, però come ti ripeto tutte le partite sono difficili, quindi noi stiamo lavorando in settimana per battere la Nocerina e vedere quello che possiamo raccogliere durante queste 15 partite che mancano da qua alla fine. Ecco, arrivato il momento di alzare la sticella degli obiettivi, ormai parlare di servezza non ha quasi più senso. Diciamo che mancano ancora 5 punti per la salvezza, è normale che ormai siamo al secondo posto, quindi speriamo di continuare così fino alla fine, vediamo dove possiamo arrivare, pensiamo di domenica in domenica e dopo tireremo l'esame. Siete a 7 punti dal Troina come a 7 punti anche la Vibonese dal Troina, c'è la possibilità che questo gap nelle prossime domeniche si accorcia ancora dando vita ad un campionato equilibrato che probabilmente si definirà soltanto nelle ultime giornate? Il campionato è un campionato difficile, equilibrato, quindi ancora secondo me è presto parlare di chi vince il campionato e chi no. Sappiamo che sono 7 punti, sono un po' tanti, però sappiamo anche che ci sono 15 partite da affrontare dove ci sono 45 punti da conquistare, quindi ancora non c'è niente di sicuro. Un momento un po' particolare per Ligia Virtus che continua a fare risultati però senza i gol degli attaccanti, signori centrocampisti hai segnato tu qualche volta, hai segnato Fontana l'altra volta, vincete lo stesso anche senza i gol degli attaccanti, è un po' un paradosso però una cosa importante. Vabbè è un periodo che stanno attraversando gli attaccanti, essendo una squadra giovane ci può stare, comunque l'importante è che abbiamo vinto anche grazie ai miei compagni, quindi prima o poi si sbloccheranno, è normale, l'importante è che loro lavorano durante la settimana seguendo il mister e che i risultati arriveranno. Quella con la Nocerina è una gara che apre una serie di partite casalinghe piuttosto importanti, arriveranno poi il Gela, la Cireale, il Truina e il Messina. Siete un po' padroni del vostro destino avendo tutte le partite importanti in casa tranne quella di Vibo Valenzi? Sì, in casa abbiamo tutti i derby e partite importanti, ma anche fuori andiamo ad affrontare squadre dove si devono salvare. Noi pensiamo di domenica in domenica, quindi è normale che ci aspettiamo di tirare più punti possibili, dopo vedremo dove possiamo arrivare. Grazie a tutti.